È stata sicuramente delusione totale perché siamo delusi noi in primis e sappiamo di aver deluso tutto il pubblico che ci segue, tutti i tifosi. Quindi è stata una bella batosta, ma subito dopo, digerito dopo la cena, ci siamo detti tra di noi che ce la possiamo fare, che ci crediamo, che sappiamo di aver fatto tutto il possibile per perdere di nove e quindi facendo degli errori che ti fanno capire proprio che era una giornata no. Quindi ci siamo detti, ci rimbocchiamo le maniche, andiamo domenica senza niente da perdere, un atteggiamento completamente diverso e nove gol è difficile, ma non impossibile. Avete provato a spiegarvi che cosa è successo dopo 25 minuti oggettivamente buoni, 35 in cui comunque siamo stati in partita perché fino al 35esimo eravamo praticamente 17 pari, poi si è veramente spenta la luce. Sì, sì, ma già nel primo tempo, nonostante stessimo giocando male che eravamo in partita, non so spiegare perché, ci sono giornate così, sono arrivati nella carriera di chiunque, giornate in cui veramente niente va per il verso giusto e questo è stato. È venuto a trovare scuse del pubblico così, siamo più o meno tutti abituati a giocare in palazzetti dove ci sono 3-4 mila persone, quindi sarebbe un po' sciocco trovare questa scusa, ci dobbiamo fare un mea culpa completo di non essere stati nessuno dei 16 giocatori al proprio livello e penso che sia questo il più grande problema. Adesso domenica, se tutti giochiamo come sappiamo fare, io sono sicuro che questa partita si può ribaltare. È vero come dici tu, loro hanno fatto, non dico la partita della vita, però a loro è riuscito tutto, erano completamente in fiducia, si è visto alcuni tiri, pallonetti o così, proprio che si vede che è la giornata in cui ti riesce tutto e noi siamo anche inciampati sul loro portiere che ha fatto una gran partita, i nostri hanno parlato un po' meno del solito, noi la nostra difesa non li ha aiutati come al solito, quindi sono tutte cose che possono solo migliorare. Penso che loro verranno qui con il fatto di proteggere questi 9 gol di vantaggio, sarebbe stupido da parte loro non farlo, quindi penso che cercano di rallentare completamente il gioco, a noi, a casa nostra, di impostare il nostro gioco, il nostro gioco veloce, di non smettere di correre, perché secondo me questa sarà la chiave della partita, una difesa molto più aggressiva, andandoli a cercare, a farli sentire che siamo in Italia e correre e fare gol facili per non farli giocare nella loro difesa che comunque è un po' voluminosa, diciamo così, quindi farli correre, farli muovere e la nostra difesa deve essere davvero molto aggressiva e molto fisica. In definitiva difficile ma non impossibile, ci crediamo? Assolutamente sì, ne abbiamo viste nello sport imprese di questo tipo qua, ci siamo complicati molto il cammino, questo è sicuro, però io ci credo e spero che il pubblico ci dia quella spinta in più, che ha dato anche a loro, ma soprattutto tra di noi, tra noi 19 che siamo qua, dobbiamo crederci e ne sono certo, ne ho parlato con molti ragazzi, ma tutti quanti ci crediamo e andiamo verso l'unico obiettivo.